Oggi quello che andremo a fare, come avrete magari visto sul gruppo Telegram, è dedicare tre ore a un esercizio sul form, gli stati e ovviamente l'interazione tra gli stati e il form. Prima di fare l'esercizio però fatemi correggere o sistemare una cosa che ho detto su questa slide la settimana scorsa e fatemi anche finire le ultime tre o quattro slide che l'altra volta abbiamo detto ci servono la prossima volta. Poi diamo un'occhiata un attimo a dove siamo nel semestre su questo corso e poi finalmente faremo l'esercizio. Allora l'altra volta io ho detto una cosa che adesso vado a modificare ovviamente. Vi ho detto che un qualcosa tipo questo unsubmit in un form non è necessario se il form, se l'input, se il bottone è di tipo submit. Magari non lo ricordate, meglio così perché non è corretto. quello che avrei dovuto dire, è una variante di questo, ed è questo. Immaginate che questo sia un bottone invece che un input. Se questo fosse un bottone, noi cosa mettiamo tipicamente quando c'è un evento su un bottone su un clic. Qui c'è un clic? C'è scritto un clic? No, possiamo essere d'accordo che non c'è scritto un clic. Bene. Perché? Perché quando c'è un bottone, un input, un elemento di type submit, quell'elemento scatena due eventi. L'evento di un clic, ma anche l'evento di submit del form. Quindi premendo col mouse questo input, questo bottone, in quel momento generiamo due eventi. Il clic e il submit. Noi possiamo scegliere quale dei due intercettare. Possiamo intercettare l'on click o possiamo intercettare l'on submit. Non ha senso intercettarli entrambi. Quindi, quando il bottone o l'input è di tipo submit, noi possiamo usare sul form on submit che indica qual è il metodo che viene chiamato quando viene intercettato l'evento di submit. E quindi l'on click non è necessario. Ecco quello che non è necessario, l'on click. Viceversa, se noi non volessimo usare l'on submit, potremmo usare l'on click e intercettare l'evento di click sul bottone submit. Quindi abbiamo queste due scelte quando abbiamo un form. O intercettiamo l'on click scrivendo on click sul bottone di submit e quindi l'on submit non serve. Oppure, se non abbiamo l'on click, possiamo scegliere di intercettare l'on submit. Perché uno può essere... In che caso uno può essere meglio dell'altro o può funzionare meglio dell'altro? Se vi viene in mente? Io vi posso dire che l'on submit potrebbe essere meglio dell'on click. In un caso particolare. In alcuni casi particolari del caso particolare. In genere sono identici. Se voi non usaste... On click, cosa dovete usare per fare on click? Il mouse. Quindi l'evento di submit del form viene scatenato ogni volta che viene sottomesso un form. L'on click potrebbe essere dipendente dal fatto che voi state facendoci click con un mouse piuttosto che enter quando ha il focus. Mentre l'evento di submit viene generato. Quindi dato che questo è un form è più generico, diciamo così, è corretto, perché questo è un form, usare l'on submit rispetto all'on click. Dopodiché anche l'on click funzionerebbe perché tutti gli elementi del form, dato che abbiamo visto che i form sono controllati, sono comunque in uno stato, quindi sono disponibili quando viene premuto il bottone. L'on submit scatena anche la validazione. Quindi il fatto che ci sia un form viene anche scatenato per la validazione. Quindi non grandi differenze, on submit è un click, dato che è un form preferiamo l'on submit, ma il form scatena tipicamente entrambi gli eventi. Ok? E questo era l'errata corrige. L'altra volta, abbiamo detto questi, li vediamo la prossima volta, abbiamo visto nell'esercizio questo template per aggiornare elementi in un array di oggetti e l'abbiamo visto quando abbiamo implementato la funzionalità di vota. Per aumentare il voto. Ricordiamoci questo cosa faceva. Questo ci serve per creare un nuovo stato, quando va a modificarsi lo stato, e all'interno dello stato anche ogni nuovo oggetto all'interno dell'array dello stato. Quindi ci serve fare una copia profonda, in un certo senso, dello stato. Quindi non solo l'array che contiene lo stato, ma anche gli oggetti che sono contenuti nell'array dello stato. Questo è per aggiornare. È quello che abbiamo fatto l'altra volta con il voteup. In queste slide ci sono anche esempi per aggiungere qualcosa a un array, uno stato che contiene un array. E qui fa vedere due esempi. Dato che è un array, possiamo usare i metodi degli array, quindi concat, oppure possiamo ritornare un nuovo array che ha il nuovo elemento da aggiungere, e poi il vecchio array in spread. Questo perché sempre ci serve una copia dell'intero stato. Non possiamo usare push perché ritorna il numero degli elementi, il push non torna un nuovo array, mentre concat, concatena il nuovo elemento all'array e restituisce l'array risultante. Quindi se vogliamo aggiungere, possiamo aggiungere concat, se vogliamo aggiungere alla fine, l'operatore di spread, come in questo secondo caso, se vogliamo aggiungere per esempio all'inizio. Quindi questo è per aggiungere di nuovo template che potenzialmente potete utilizzare al bisogno e ovviamente c'è anche un esempio per rimuovere degli elementi in un array, che in uno stato che contiene un array. Quindi in questo caso si può o rimuovere un elemento con filter, oppure se vogliamo rimuovere il primo elemento, si può usare la destrutturazione sempre utilizzando l'operatore di spread, ma invece che alla destra dell'uguale, alla sinistra dell'uguale. E sempre ritornando comunque l'oggetto nuovo, l'array nuovo che è contenuto nello stato. Quindi questi sono i tre casi possibili di manipolazione dello stato quando lo stato è un array e quando l'array ha anche degli oggetti all'interno. Quando si vuole aggiungere qualcosa, modificare qualcosa o cancellare qualcosa. Quindi ogni volta che avete bisogno di queste cose, queste slide possono darvi l'indicazione su come farlo, in modo che ricordiate sempre di avere non solo un nuovo stato, ma anche un nuovo oggetto all'interno dello stato, che è particolarmente critico ovviamente nel caso dell'aggiornamento, perché nel caso dell'aggiunta già gli inserite un nuovo oggetto e nel caso dell'eliminazione togliete un nuovo oggetto dall'array nello stato. Ok? Quindi queste le teniamo presente. E le teniamo qua, nel caso ci servano dopo. E dicevo, prima dell'esercizio diamo un attimo un'occhiata a dove siamo nel semestre. Oggi in queste tre ore abbiamo tutto il tempo di fare l'esercizio con la dovuta calma. Dunque, questa settimana stiamo arrivando alla fine del corso. Questa è forse la buona notizia. La settimana prossima con Luca, perché io non ci sarò, vedrete come rendere la vostra applicazione singola pagina con molteplici pagine. Quindi al momento abbiamo una sola pagina, che nel nostro caso è la singola domanda con le sue risposte, e abbiamo un form subito sotto, settimana prossima vedrete come renderlo su multiple pagine. Quindi magari una pagina con tutte le domande, una pagina con la singola domanda e le sue risposte, e magari una pagina col form. Quindi molteplici pagine all'interno della stessa applicazione React. E poi i laboratori seguono. Settimana 11 e settimana 12, quindi le due settimane seguenti, integreremo la nostra applicazione React con Express, con quello che abbiamo fatto in Express. Quindi faremo funzionare le due cose, toglieremo lo stato finto dall'applicazione React, e useremo l'API che abbiamo progettato qualche settimana fa. La penultima settimana del semestre aggiungeremo l'autenticazione, quindi il login, e quindi gli utenti. Andremo a usare gli utenti che abbiamo definito nel server, e l'aggiungeremo sia al server che ovviamente al React, l'autenticazione. e l'ultima settimana del corso, e quindi il laboratorio sarà uguale, l'ultima settimana del corso, invece del laboratorio, faremo in aula, nell'aula del laboratorio, una simulazione, diciamo così, del tema d'esame. E il diciamo così è dovuto al fatto che il tema d'esame richiede 20 giorni per essere fatto, e qui ne abbiamo tre ore, e quindi ovviamente non sarà una simulazione completa del tema d'esame. Però inizieremo quantomeno a imbastire quello che servirà su un tema d'esame passato. E vi ricordo che i temi d'esame sono già tutti sul sito, nella sezione esami, quindi se volete guardarli come erano quelli degli anni precedenti, ci sono già. L'11 giugno c'è scritto no lezione, e anche questo non è totalmente corretto, non perché faremo lezione, in quanto non ci sono nuovi argomenti, ma perché molto probabilmente faremo un seminario insieme al corso in inglese, quindi congiunto, nell'altra aula, nell'aula del corso in inglese, che è la R2, credo, alle 10, non alle 8 e mezza, perché potendo scegliere, perché scegliere le 8 e mezza, alle 10, un seminario di Bending Spoon, quindi Bending Spoon, l'azienda di Milano, dovrebbe venire a fare un seminario inerente agli argomenti del corso. Questo è tutto quello che so, perché ho parlato solo con una persona, diciamo, delle risorse umane, del marketing, qualcosa del genere, e quindi non siamo andati sugli aspetti tecnici, però mi manderanno una proposta, e se tutto va bene, l'11 giugno alle 10, in aula R2, faremo questo seminario di un'oretta, un'oretta e mezza, a entrambi i corsi, quindi quelli in italiano e quelli in inglese. Ma questo volevo solo accennarvelo, poi ovviamente, quando si concretizzerà, lo scriveremo qua e lo ricorderemo a tutti, in modo che possiate partecipare. Quello ovviamente è un seminario inerente ai temi del corso, ma che non è finalizzato a superare il corso, ovviamente. E notate che a un certo punto, qua, parleremo anche di nuovo, perché ne abbiamo parlato all'inizio semestre, ma lo riprenderemo brevemente di nuovo dell'esame, visto che ci avviciniamo e che magari, probabilmente, molti di voi non ricordano cosa abbiamo detto esattamente sull'esame all'inizio del semestre, lo riprendiamo qui con un po' più di calma, visto che siamo più prossimi alla data degli appelli. Domande su questi aspetti o sulle slide o su queste cose che ho appena detto sul calendario? No? Là in fondo vedete? Sì o no? Meglio? Allora, quello che facciamo oggi e per cui, come dire, la vostra collaborazione e richieste in questa giornata prettamente autunnale è, come vi dicevo, completare il ragionamento sul form e sullo stato in un esercizio, quindi non solo applicare quello che abbiamo visto nelle slide specialmente la settimana scorsa. Questo esercizio ha tre, quattro punti, uno è opzionale, quindi diciamo tre punti che cerchiamo di fare in queste tre ore. Il primo è usare il form che abbiamo imbastito la settimana scorsa e farlo funzionare. Farlo funzionare vuol dire aggiungere una nuova risposta. Quindi inserire qualcosa nel form e inserire nello stato di React in questo momento una nuova risposta e mostrarla nella tabella. Usando lo stato che abbiamo già definito l'altra volta. Quindi completare il lavoro sul form che abbiamo fatto l'altra volta. Il secondo la seconda parte dell'esercizio chiede due cose diverse. Uno e su questo proveremo a ragionarci. Facciamo sì che il form che a quel punto ci sarà e funzionerà sparisca o appaia alla pressione di un bottone. Quindi aggiungeremo un bottone aggiungi che quando viene premuto mostra il form e quando il form viene sottomesso o annullato riappare il bottone e sparisce il form. E qui chiede abbiamo bisogno di un nuovo stato per gestire questa apparizione e scomparsa del form controllata e poi qui sempre sullo stato ci chiede di ordinare la tabella il contenuto della tabella cliccando sull'intestazione del punteggio e per semplicità un primo clic ordinerà la tabella dal valore più basso a quello più alto e un clic successivo l'opposto dal più alto al più basso e anche qui ci chiede abbiamo bisogno di un nuovo stato o possiamo usare gli stati che abbiamo e infine l'altro esercizio è quello di far funzionare il bottone di il bottone di edit che abbiamo a fianco a ogni risposta e quando premuto vogliamo modificare la risposta nello stesso identico form che abbiamo già usato e abbiamo già a disposizione nella pagina quindi non vogliamo usare un form diverso da quello di aggiunta ma vogliamo riciclare lo stesso form e quindi vogliamo gestire i cambiamenti di stato per la modifica della risposta in maniera corretta e poi qui c'è una domanda cosa succede quando modifichiamo due risposte una dopo l'altra senza sottomettere il form cioè cosa succede se ne premiamo edit edit e poi premiamo edit in un'altra riga nel form e ovviamente c'è un perché e come risolveremo il problema quindi vuol dire che c'è un problema e l'ultima parte che è quella opzionale che vediamo se riusciamo a fare se no è comunque semplice è quella di far funzionare il bottone di cancellazione quindi usando il template di codice che ho detto che c'è nelle slide che abbiamo appena visto questo è la cancellazione di un elemento nell'array dello stato quindi cliccando quel bottone in maniera analoga come clicchiamo il bottone vote up invece che andare a modificare lo score andiamo a cancellare la risposta dallo stato ok quindi partiamo dal primo che è l'aggiunta di una nuova risposta quindi io ho qui la stessa applicazione che abbiamo fatto l'altra volta in aula e ho fatto solo due modifiche perché mi sono accorto di un errore in queste in quelle precedenti in realtà che nel modello qui non c'erano le email ma c'erano ancora i nomi quindi l'unica modifica che ho fatto è rimpiazzare i nomi delle persone con la loro email però contenuto questo ovviamente ci sarà inutile nel momento in cui avremo poi il server per cui le informazioni del database erano già memorizzate correttamente e l'altra modifica che ho fatto che è puramente estetica diciamo è che avevamo chiamato avevo chiamato il form il file del form form answer ma dato che il resto si chiama answer qualcosa l'ho rinominato in answer form veramente una modifica puramente estetica in modo da avere tutto answer qualcosa question qualcosa eccetera ma al netto di queste due modifiche il codice è esattamente lo stesso che abbiamo realizzato l'altra volta in aula quindi andiamo sull'answer form perché vogliamo vogliamo qui aggiungere una nuova risposta alla tabella allora se ricordate e possiamo farlo partire fatemi installare quello che serve non qui abbiamo mai vi ho mai detto o lo sapete che cos'è npm run perché scriviamo npm run dev o perché o perché non possiamo scrivere npm run qualcos'altro quel dev che cos'è da dove viene e io vi ho sempre detto per lanciarlo scriviamo npm run dev e voi vi siete fidati bravi o forse no e funziona che è un ottimo risultato ma questo run dev da dove esce? da package.json perché? sì npm ok sì sulla chiave dev c'è chitto byte quindi facciamo partire dai npm abbiamo visto che fa una serie di cose no? quindi npm install permette di installare npm start è un altro comando che si può dare npm run permette di eseguire degli script definiti dallo sviluppatore in questo caso byte che è quello che abbiamo il tool che abbiamo usato per creare il progetto react aggiunge nel package.json come diceva correttamente il vostro collega degli script cioè degli shortcut delle scorciatoie e degli alias in un certo senso che mappano un comando byte con un nome breve quindi quando noi scriviamo npm run dev è come se noi eseguissimo byte per far partire il server eccetera se noi scrivessimo npm run lint invece eseguiremmo tutto questo quindi è un'abbreviazione un alias per un comando potenzialmente più lungo in questo caso dev byte non sono molto più lunghi e quant'altro ma è un po' come quando utilizzavo morgan con script dev è un po' quando utilizzavo morgan morgan serviva per il log giusto? o vuoi dire nodemon? no nodemon nodemon no quella è un'altra cosa quell'app use morgan dev è un'altra roba e stesso dev cioè stessa scritta dev ma completamente questo è cioè qui potreste anche chiamarlo così lo script adesso non è molto memorabile ma funzionerebbe lo stesso npm run kgh eccetera quello lì app use morgan dev è perché morgan che è la libreria per fare logging in javascript nel server in quel caso definisce alcuni livelli di logging di visualizzazione di dettagli e uno dei livelli è quello dev quindi sviluppo poi c'è il livello tiny poi c'è il livello non mi ricordo degli altri ci sono 3 o 4 livelli che si possono utilizzare quindi noi mettiamo dev perché attiviamo il log in modalità sviluppo diciamo così per gli sviluppatori con le informazioni per gli sviluppatori ok quindi quando noi scriviamo ripeto npm run dev andiamo in realtà a chiamare questo script che va a chiamare byte che è quello che di nuovo abbiamo usato per creare l'intero progetto quindi npm run dev infatti vedete dice byte versione 5.2.10 perché effettivamente chiama byte stavamo dicendo il form quindi l'altra volta abbiamo realizzato questo form che abbiamo detto fa un po' di validazione per cui se scrivo qualcosa qui ma non negli altri campi mi dice per esempio che quella deve essere riempito e che deve essere una mail non può essere un qualcosa che non è una mail e quindi noi adesso vorremmo poi premere inserire ovviamente qui una mail e premere add e far sì che questo questa risposta compaia nella tabella con i suoi bottoni per votare modificare cancellare e l'altra volta abbiamo implementato il vota per cui se clicco qui cambia lo score e ovviamente se faccio refresh ritorna tutto al valore iniziale perché i componenti si ricreano ecco fatemelo dire anche se è emerso su gruppo telegram vi ricordo che quando creiamo un componente e impostiamo lo stato il valore di default che inseriamo qui nello use state che in questo caso è una stringa vuota viene chiamato solo quando il componente viene creato per la prima volta comunque viene creato che nella maggior parte dei casi è quando l'applicazione si lancia o quando si fa refresh sulla pagina quindi quando viene creato da zero altrimenti non viene riletto quel valore ok quindi questo è quello che abbiamo fatto l'altra volta ora quello che vogliamo fare è far funzionare questo bottone di add fatemela mettere come success come colore quindi in base a quello che vi ho appena detto appena diciamo 20 minuti fa che cosa dobbiamo fare in questo form per far funzionare il bottone di add dobbiamo attivare l'onsubmit quindi andiamo nel form e scriviamo on submit quindi dobbiamo intercettare l'evento di submit on submit avevamo già una un metodo che avevamo creato l'altra volta che abbiamo lasciato vuoto con scritto farà qualcosa e quindi andiamo a chiamare quell'endor submit ok quindi cosa facciamo in questo endor submit abbiamo le nostre informazioni nel form che se arrivano a questo punto hanno passato i controlli di required di lunghezza minima eccetera che ci sono nell'html e dobbiamo aggiungerlo alla tabella sì certo a un certo punto dobbiamo aggiungere la tabella creare un oggetto in javascript e aggiungerlo alla collezione allora giusto dobbiamo creare una diciamo una nuova risposta no e poi aggiungere la risposta allo stato no questi sono i due macro passaggi che dobbiamo fare ci serve l'oggetto e ci serve poi aggiungerlo allo stato che contiene tutte le risposte lo stato che contiene tutte le risposte dove sta? sta in questo file? sta in questo componente? sì o no? no e dov'è? in app quindi dato che poi a un certo punto dobbiamo aggiungere la risposta a quello stato che sta in app ma noi non siamo in app cosa dobbiamo fare? dobbiamo passare tramite props un metodo che ci permetterà di modificare lo stato in maniera analoga a quello che abbiamo fatto per il vote up la settimana scorsa la settimana scorsa abbiamo creato il metodo vote up in app l'abbiamo passato tramite props fino al bottone questa volta dobbiamo passarlo fino al form ok? prima di tutto in realtà l'altra cosa che dobbiamo fare è dire event punto prevent default per assicurarci e passare un evento a questo end of submit che in realtà riceve automaticamente solo dire al software di utilizzarlo a javascript di utilizzarlo e questo prevent default ricordate serve a prevenire il comportamento di default del form che è chiamare un indirizzo diverso e quindi in questo caso chiamerebbe la stessa pagina farebbe un refresh e quindi ricostruirebbe l'intera pagina da zero perdendo in questo caso le modifiche che abbiamo fatto ok quindi creiamo una nuova risposta answer e non creo una risposta new answer in questo caso ma creo un oggetto che contiene solo le informazioni che abbiamo a disposizione il testo l'email e la data perché secondo voi è una scelta perché secondo voi possiamo fare questa scelta o può aver senso fare questa scelta che lo fa lui esatto dopo lo passeremo alla pgx le informazioni che ci servono che andrà lui a creare una nuova risposta così non dobbiamo importare qui l'oggetto risposta ma ci sono anche due cose che noi qui una soprattutto cosa che noi qui non sappiamo un'informazione che noi qui non abbiamo la domanda ne abbiamo una sola quindi in questo momento l'id qual è l'id della nuova risposta il form non lo sa app potrebbe calcolarlo e lo calcolerà perché ha tutto lo stato con tutte le risposte e quindi può generare un id appropriato quindi qui non ce l'abbiamo l'id quindi una scelta è non creare qui una nuova risposta e passare solo le informazioni che ci servono e poi avere app che crea la nuova risposta e imposta l'id imposta lo score a 0 tanto lo score sarà per forza 0 nel caso di una nuova risposta e l'altra opzione è invece passare in qualche modo da app a qui il nuovo ipotetico id quindi tutte le volte che c'è un form di creazione è passare un nuovo ipotetico id da poter aggiungere quindi scegliamo la prima strada quindi qui passiamo un oggetto testo email e data ecco cos'altro potremmo fare che ma assegniamolo come to do cosa potremmo fare aggiungere cosa potremmo fare su questo testo email e data potremmo aggiungere delle delle dei constraint delle validazioni no quindi potremmo ricontrollare per esempio che che il testo sia una parola sia composto da parole che abbia almeno uno spazio potremmo ricontrollare che non sia la stringa vuota in realtà il form ci impedisce che sia una stringa vuota perché è ben detto che ha una lunghezza minima di due quindi però potremmo controllare che quei due non siano due spazi per esempio perché lo spazio è un carattere valido se faccio spazio spazio quindi potremmo fare delle validazioni aggiuntive prima di inserire una risposta che poi è sbagliato e le validazioni le facciamo a mano se testo è uguale a eccetera eccetera oppure email è uguale a quindi con un if o con degli if ok non perdiamo tempo a fare le validazioni e a questo punto cosa dobbiamo fare? aggiungere la risposta allo stato quindi andremo a scrivere qualcosa props punto props punto il metodo che porteremo giù da app che possiamo chiamare ad answer a cui passiamo la l'oggetto che abbiamo creato che altra modifica dobbiamo fare qui? aggiungere le props al componente giusto? ok a questo punto andiamo a creare questo ad answer e poi andiamo a portarlo giù fino al form quindi andiamo in app possiamo metterci sotto il vote up visto che l'abbiamo fatto dopo e qui possiamo creare una funzione che possiamo sempre chiamare ad answer che ha un parametro che è la risposta nuova da aggiungere e qui andiamo a modificare lo stato per aggiungere la nuova risposta in maniera analoga a quello che c'è qui vogliamo aggiungere un elemento in uno stato basato su array quindi o usando concat o usando l'operatore di spread con l'operatore di spread possiamo anche aggiungere in coda non solo all'inizio ovviamente l'importante è creare un nuovo stato quindi set stato il vecchio stato e poi ritorniamo lo spreading del vecchio stato e il nuovo elemento da aggiungere quindi set answers perché dobbiamo aggiornare l'intero stato anche se ci interessa solo un pezzettino come nel caso del vote up quindi old answer e poi return ovviamente ci manca un pezzo in mezzo ma return old answer virgola answer che pezzo ci manca qui in mezzo? creare l'oggetto di tipo answer e assegnare l'id quindi creiamo una nuova risposta chiamiamola new answer quindi questa diventerà new answer e poi ci serve un id allora la nuova risposta cosa avrà? avrà new id che adesso calcoliamo poi avrà answer.text answer.email answer.date e 0 perché lo score è 0 ok quindi abbiamo creato qui l'oggetto di tipo risposta in modo che nel nostro array di stati ci siano solo oggetti di tipo risposta e non un mix di oggetti di tipo risposta e altre cose come calcoliamo il nuovo id ora il nuovo id a fine corso chi ce lo darà? il database e quindi prima del database noi non parleremo direttamente con il database no? chi ce lo darà? l'API ce lo darà l'express ce lo darà il server che certamente lo chiederà il database che genererà il database quindi non è che è sbagliato però il database genererà l'id e noi l'id verrà restituito se tutto va bene dall'API e quindi lo useremo qui non abbiamo ancora un database un server niente quindi dobbiamo calcolarcelo noi come potremmo calcolarci un id che abbia senso e che sia un iboco? prendiamo il massimo più uno prendiamo il massimo più uno bene come lo facciamo? si si no certo come calcoliamo il massimo in codice ok mat no mat non questo che non so cosa sia mat come matematica punto max perché ci serve calcolare il massimo e possiamo farlo con un map quindi all answer punto map così calcoliamo il otteniamo un array con solo gli id quindi ans ans punto id e poi a quel punto facciamo più uno perché max ha bisogno di un array numerico per calcolare per funzionare correttamente quindi noi con un map creiamo un nuovo array che contiene solo gli id 1, 2, 5, 7, 9 per esempio gli id non è detto che siano consecutivi nel nostro caso lo sono ma se ne avessimo molteplici domande potremmo avere che le prime tre risposte appartengono alla prima domanda le seconde tre appartengono alla seconda e le terze due appartengono alla prima quindi la prima domanda avrà risposte 1, 2, 3 no 4, no 5, no 6 7, 8 quindi in quel caso il massimo sarebbe 9 sarebbe 8 a cui aveva aggiunto 1 per arrivare a 9 quindi con la map generiamo un array che ha solo gli id 1, 2 in questo caso 1, 2, 3 o quello che è 1, 2, 3, 4 o 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e aggiungiamo 1 e otteniamo così il nuovo id che andiamo a passare e inserire nello stato così al giro dopo il massimo ci darà il nuovo id che abbiamo calcolato senza forse il più 1 va fuori dal max giusto sì perché il max vuole solo un array quindi un array più 1 giusto sì se noi avessimo risposte 1, 2, 3, 4, 5 andiamo a inserire da 6 e poi rimuoviamo la 5 dovrebbe esserci uno scalamento di più o meno? no cioè se noi non avessimo il database potremmo anche decidere di fare lo scalamento di id ma è lavoro in più per niente perché lo scopo dell'id è che sia univoco all'interno di una collezione quindi affinché rimana univoco va bene non è detto che la lista sia ordinata per id da come le abbiamo inseriti noi sì in questo momento sì però no e anche in questo caso lo inseriamo sempre in fondo eccetera quindi se nessuno tocca l'ordine possiamo andare a prendere l'ultimo e fare più 1 se nessuno tocca l'ordine diciamo che questo metodo col max è più generico per cui se io invece di inserire in test in coda inserissi così lui continuerebbe a funzionare correttamente perché anche se inserisco quello con i d maggiori all'inizio lui comunque prende il massimo quindi più diciamo resistente rispetto a diverse implementazioni ok? altre domande? ora questo ad answer dobbiamo portarcelo fino al form perché sennò quindi dobbiamo passarlo qui come props ad answer uguale ad answer poi fatemi fare copia e incolla salute in answers poi dobbiamo passarlo all'answer form come props assicurandoci che ci sia la props ovviamente e poi a questo punto in answer form dovremmo essere a posto perché è già dove ci serve quindi non dobbiamo passarlo ulteriormente quindi solo passarlo due volte ad answers e poi dato che ci serve nel form passarlo come props ad answer form e notate che io continuo spesso chiamo gli attributi esattamente come il metodo voi potreste anche chiamarlo ad uguale props punto ad answer non è obbligatorio usare lo stesso nome e in genere è consigliato usare nomi simili in modo da non soprattutto quando si buca tanto da app verso un qualche componente in modo da ricordarsi che quel metodo è esattamente quello che stiamo andando a modificare nel caso per esempio in cui ci siano più add e quindi aiuta solo mnemonicamente a ricordarsi quale dei metodi che si chiamano add qualcosa stiamo utilizzando questo però non è obbligatorio potreste anche usare un altro nome annetto che poi vi ricordiate esattamente il mapping tra il nome che cambia della prop e il nome del metodo originale ora questo dovrebbe completare l'esercizio vediamo se è vero fatemelo rilanciare l'avevo fermato e quindi torniamo qui inseriamo qualcosa mail mettiamo una mail perché se non la mettiamo sappiamo che viene sbagliato e mettiamo una data per esempio quella di oggi e premiamo add e vedete che ci viene aggiunto nella tabella e possiamo per esempio anche dovremmo potere anche votarlo esattamente come gli altri adesso capiamo perché ok? sì se per caso non inserissimo la data ma lasciassimo quello che c'è di default non c'è un comportamento più conservativo che magari fare forse un valido il tempo tu dici così sì se facciamo così cosa succede? non dà errore però non dà errore ma il risultato come dire non è nella tabella non è quello che no? perché se ne facciamo così ci viene tutto inserito ma c'è scritto invalid date perché qual è la data che qual è la data che passiamo? se lo lasciamo vuoto la stringa vuota e quindi la stringa vuota non è una data cosa potremmo fare per alleviare quel problema? come mettiamo la data di oggi? oppure oppure farlo direttamente qui così così nel form invece di comparire giorno a giorno mese a mese anno a anno ci compare la data per esempio di oggi assumiamo che quando una persona aggiunge una risposta la voglia aggiungere per oggi non per ieri non per domani ok? quindi come potremmo aggiungere qui la data di oggi? DJS che va anche importato ovviamente ci basta DJS punto format di cosa? e perché punto format? allora se mettiamo DJS cosa succede? assolutamente niente cioè qui ci appare la data corretta ma qui continuiamo a vedere giorno a giorno mese a mese anno a anno che è un po' brutto che senza data ci compaia per carità ci compaia la data di oggi come facciamo a far comparire anche qui nel form la data di oggi? punto format è giusto che formattazione di data accetta un campo data in un form perché un campo data in un form vuole esattamente una formatazione di data come stringa per cui il punto format va benissimo e questa formatazione di data secondo voi è? non è quella non è giorno a giorno mese a mese anno a anno anno ma è quella standard diciamo ISO quindi anno a anno a anno mese a mese giorno a giorno allora se noi facciamo così vedete che il form di default alla data di oggi poi renderizzato in base a come il browser renderizza il campo data abbiamo già visto l'altra volta cambiando browser potrebbe esserci una renderizzazione diversa e noi andando qui possiamo ovviamente cambiarla o possiamo anche cambiarla direttamente nel campo form quindi mettere l'11 giugno del 2023 e questo è lecito ovviamente nelle validazioni che facciamo nel handle submit nelle validazioni che facciamo nel handle submit potremmo controllare anche mettere alcune validazioni sulla data se non volessimo una data nel futuro oppure accettassimo solo una data non nel passato o relativamente vicina al dato odierno e quant'altro ok? ok, così questo della data l'abbiamo risolto tanto ci saremmo scontrati ora perché l'endulsa il il vote up non funziona allora aggiungiamo un una risposta e andiamo a vedere ah, ecco qua perché non funziona perché l'id non viene preso perché la riga adesso non so se se si vede ma questo è lo strumento del browser per react in cui vediamo che nella riga c'è una chiave e la chiave dovrebbe essere uguale all'id e la chiave è nota number quindi non è un numero e quindi il vote up usava l'id per andare a capire qual era la e la chiave è uguale all'id usava l'id per andare a capire qual era la riga da incrementare il voto e dato che l'id non è un numero non riesce a farlo quindi c'è un problema nel max direi perché è l'unica cosa che certo ok quindi ci serve fare lo spreading del map perché? perché anch'io ricordavo sbagliato perché il max non vuole un array ma vuole un elenco di numeri separato da virgola quindi se noi al max passiamo un array lui non riesce a calcolare il massimo quindi con l'operatore di spread scompattiamo l'array in un elenco di numeri separato da virgola e quindi il max funziona e riesce a fare più uno prima faceva array vuoto più uno e quindi non era un numero ok bene domande sull'aggiunta? perché adesso andiamo a costruire e complichiamo un po' le cose quindi se ci sono dubbi è bene risolverle adesso perché possono solo peggiorare no? allora andiamo avanti facciamo sì che l'intero form appaia e sparisca attraverso un bottone alla fine della tabella quindi praticamente noi quello che vorremmo lasciamo perdere answer form vorremmo che qui ci sia un button fatemelo copiare da da un'altra parte così facciamo forse prima noi vorremmo che qui ci sia un bottone va bene primary togliamo questa perché non ci serve e vorremmo che qui ci sia un bottone e premendo il bottone appaia il form e sparisca il bottone premendo cancel o add sparisca il form e riappaia il bottone un comportamento duale cioè il bottone lo premiamo scompare appare il form chiudiamo il form in qualche modo sparisce il form e riappare il bottone quindi entrambi come in questo caso non ci devono stare uno o l'altro come allora il testo ci chiede abbiamo bisogno di un nuovo stato e poi come lo facciamo qui non ci sono concetti nuovi c'è solo applicazioni in un certo senso di quello che abbiamo visto per rendere un comportamento per collegare due elementi insieme quindi la prima domanda è le due domande sono come lo facciamo e se ci serve un nuovo stato per farlo e poi possiamo rispondere prima la prima poi la seconda o viceversa come preferite sì sì tu dici facciamo una funzione che mette un display none al bottone se il forum è visibile e viceversa questa è un'opzione la conseguenza di quell'opzione nella pagina html è che se noi andiamo a fare ispezione elemento continua a esserci l'elemento nella pagina però visivamente otteniamo risultato comunque la logica è quella quando c'è uno togliamo nascondiamo l'altro in realtà possiamo toglierlo l'altro potremmo dire quando c'è il bottone togliamo il form e quando c'è il form quando togliamo il form aggiungiamo il bottone quindi renderizziamo il componente in maniera programmatica in ogni caso sia per visualizzarlo con il display none sia per raggiungerlo cosa ci serve? ci serve un nuovo stato oppure no? abbiamo qui gli elementi per dire se il form è visibile allora metti il display none al bottone e viceversa o ci serve un qualcos'altro per poterlo fare? usiamo uno stato l'operatore ternario quindi proviamo a perché non andremo a fare così però quella è un'opzione quindi proviamo a fatemi usare questa come tela per dunque noi abbiamo la nostra tabella giusto? questa sarebbe la nostra tabella poi abbiamo il nostro bottone e abbiamo il nostro form giusto? al netto delle doti grafiche del sottoscritto quello che suggerisce lui che è una delle un'opzione un'opzione che è validissima è avere un nuovo stato che potremmo chiamare show form che potrebbe assumere quali valori vero e falso e quindi quello che potremmo dire è cosa possiamo dire se questo è un nuovo stato se questo è un nuovo stato possiamo metterlo a default falso questo è uno stato il cui default è falso quindi di default non c'è il formo visibile perché c'è il bottone cosa potremmo andare a scrivere in codice per questa cosa qua con un operatore ternario oppure con un if se show form è uguale a falso allora renderizza che cosa? il bottone altrimenti il form quando premo add o cancel nel form devo modificare questo stato? si andando a mettere show form a a falso perché il form è visualizzato quando premo add devo chiudere devo mettere show form a falso mettendo show form a falso il componente viene rirenderizzato l'intero componente tutto questo viene rirenderizzato e quindi in quell'if andiamo nel caso in cui c'è il bottone visibile se show form è falso questo ha un interessante effetto diciamo così collaterale che abbiamo entrambi se facciamo così come ho detto abbiamo entrambi componenti nella pagina oppure no visibili nella pagina oppure no no ne abbiamo uno solo alla volta visibile nella pagina e quindi quando il componente viene renderizzato uno dei due componenti viene distrutto e l'altro viene creato quindi tutte le volte creiamo per esempio il form da zero questo vuol dire che il set dello use state viene fatto da zero tutte le volte che creiamo il form e questo ci permette per esempio di avere tutte le volte che facciamo un add partire da da vuoto da un form vuoto altrimenti avremo le informazioni dell'add precedente nel form quindi questo è un effetto collaterale buono e questo è quello che ho fatto fino all'anno scorso e che farei se avessimo solo due stati niente o add però diamo un'occhiata dopo se noi guardiamo l'esercizio dopo cosa ci chiede? cosa ci chiede? di modificare una risposta usando lo stesso form quindi cosa vuol dire? questo è il default abbiamo detto cosa vuol dire se noi abbiamo anche uno stato edit quindi vogliamo usare questo form due volte per due cose diverse uno per aggiungere quindi deve partire da un form vuoto e andare avanti e l'altro per modificare quindi deve avere il contenuto della risposta al suo interno per poterla modificare possiamo farlo con questo modo binario? sì come no? sì possiamo continuare a farlo è più complicato è più complicato perché il true vorrà dire due cose vorrà dire add oppure vorrà dire edit quindi il comportamento del bottone add sarà sempre lo stesso lo premo appaio il form faccio cancel o submit del form e chiudo il form e compare il bottone add quello che cambia è che il form dovrà comparire anche quando premo il bottone edit su ogni singola riga quindi questo form non dovrà solo comparire e scomparire in base a quello che fa add ma dovrà anche comparire e scomparire in base a quello che fa ogni singolo edit nella tabella quindi è solo più complicato si può fare anche così ma è più complicato perché in un caso vero dobbiamo gestire solo nel caso add solo nel caso edit quindi in un certo senso invece di avere due stati ne abbiamo tre ma gestiamo due stati nel caso vero quindi cosa potremmo invece fare? questo si può fare è solo un po' più complicato cosa potremmo fare come alternativa? ci serve sempre uno stato questo fin qui ci serve uno stato che magari non chiamiamo showform però sì che ha tre elementi può avere tre elementi può essere 0, 1, 2 può essere tre stringhe può essere ovviamente non può essere true e false perché true e false sono solo due quindi potremmo avere e questo può esservi utile anche come modello e per cui lo faccio così per questo motivo può essere utile come modello anche per gestire altri casi uno stato che possiamo chiamare modo che potrebbe avere tre o quattro o cinque a questo punto non importa stati uno è quello mappato al nostro false potremmo chiamarlo view quindi il modo in cui vedo la pagina non faccio operazioni non aggiungo non modifica solo visualizzazione il modo e lo mappiamo sul true sull'add che il modo add e ovviamente l'altro potrebbe essere il modo edit e questi potrebbero essere tre sting 0 1 2 quant'altro e uno solo di questi sarà attivo in un certo momento quindi un array per esempio non ci serve perché tanto ce ne sarà sempre uno solo attivo in un momento specifico lo stato sarà o add o edit o view quindi questo ci permette di gestire esattamente gli altri casi ma senza avere il caso add ed edit nell'unico true ma avendo due casi separati poi noi inizieremo a fare l'add e il view e poi aggiungeremo il caso edit quando implementeremo l'edit e in quale altro scenario potrebbe servirvi un caso mod per esempio diverso da questo immaginate un'applicazione con magari diversi ruoli degli utenti uno potrebbe avere un modo visualizzazione e un modo per esempio un modo per esempio admin che può sbloccare alcune funzionalità in più e quindi magari far comparire cose oppure abilitare funzionalità che non sono previste e magari un modo utente normale loggato quindi gestire anche diversi profili in un certo senso usando la stessa logica di stato mod e questo stato ovviamente è uno stato solo di presentazione in quanto va a modificare il rendering e la presenza o meno di certi componenti ok quindi avessimo solo l'add e e niente quindi bottone potevamo usare uno stato binario come true false ma dato che poi noi andremo ad aggiungere subito anche l'edit possiamo anche farlo con uno stato binario ma è più comodo e più pulito anche strutturalmente nel codice farlo con uno stato ternario e quindi e quindi quello che possiamo fare è andare a aggiungere questo stato mod dove lo aggiungiamo lo stato mod in quale componente app app answers answer table answer form answer row answers perché? perché contiene tutti gli elementi che ci servono quindi è il il padre comune quindi l'ancestore comune agli elementi che ci interessano che sono il bottone e il form quindi qui andiamo ad aggiungere uno stato mod set mod use state che inizializziamo a che valore di default? qual è il valore di default di questo stato? no view quindi view è c'è solo il bottone visibile add c'è il form per aggiunta edit c'è il form precompilato per la modifica quindi il default è view il default era false e qui il default è view quindi view e usiamolo come stringa ok e questa è una cosa ora cosa dobbiamo scrivere qui dove abbiamo i bottoni l'abbiamo detto prima dovremmo scrivere if mod è uguale a view allora renderizza button variant primary add altrimenti se mod è uguale ad add renderizza answer form con add answer un modo per farlo senza usare l'if in react è questo quindi aprire un'espressione javascript e scrivere direttamente mod tanto uno stato triplo uguale view e commerciale quindi mettere in end il modo e il componente perché se mod è view è true il componente è true quindi se sono entrambi true viene renderizzato e stessa cosa per l'add quindi racchiudiamo un un componente gsx che è comunque codice javascript valido all'interno di un'espressione javascript in cui facciamo questo operatore questo end e quindi se entrambi sono veri viene visualizzato il componente altrimenti no questo è un idioma che si usa spesso in react per fare un rendering condizionale quindi se il primo elemento è vero allora viene renderizzato il secondo se il primo elemento è falso ovviamente il secondo non viene renderizzato ok cosa ci manca qui ci manca qualcosa nel view per adesso far funzionare il il bottone no perché adesso abbiamo abbiamo il bottone ma se io lo clicco non succede niente perché noi abbiamo ancora detto nessun comportamento particolare quindi cosa succede cosa dovrebbe fare questo bottone si sul long click deve fare set mode add quindi set mode add e mi serve un'altra parentesi graffa ok ok quindi se io vado qui premo add mi compare il form perché abbiamo cambiato lo stato lo stato genera un re-rendering e il re-rendering stavolta andrà a dire che mode è add e quindi visualizza il form ora cosa dobbiamo premere un bottone per far riapparire il bottone add cosa facciamo come facciamo a far riapparire il bottone add andiamo a settare il mode view di nuovo dove lo facciamo si potremmo passare tramite props come abbiamo fatto una funzione da mettere giù da attaccare al bottone oppure abbiamo già un evento collegato col bottone abbiamo già una props collegata col bottone qual è qual è qui quella props ce n'è una sola add answer quindi potremmo riciclare questa per fargli fare due cose quindi add answer sarà una funzione che chiamerà props.adanswer e chiamerà anche set mode view quindi andiamo a scrivere esplicitamente quello che prima scrivevamo in maniera implicita cioè che add answer è una callback che prenderà un oggetto che è answer che verrà passato ad answers come props e poi in più farà un set mode view questo si può fare in linea come stiamo facendo qui o si può avere un altro metodo all'interno di questo answers che che ha entrambe queste righe essendo due cose si possono anche fare ovviamente in linea quindi abbiamo esteso il comportamento di add answer che è già collegato al bottone add possiamo collegare una cosa simile al bottone cancel che quando premiamo cancel faccia lo stesso comportamento quindi potremmo scrivere cancel uguale set mode view e se mettiamo qua questo cancel dovremmo mettere nel form a questo punto sì perché il cancel non aveva un comportamento di default dobbiamo andare nel form che già riceve una props e dire che quando premiamo cancel on click props punto cancel così proviamo se premiamo add il form appare se premiamo cancel il form sparisce e se aggiungiamo qualcosa e premiamo add il form scompare quindi abbiamo gestito i nostri i nostri casi per far apparire e sparire il bottone ok sì questo modo di gestire appunto tante mode può anche funzionare per passare da una c'è qualche variabile magari di react per passare da desktop a mobile version di un sito in maniera più allora il passare da desktop a mobile lo puoi fare con CSS per esempio con bootstrap quindi applicando le classi appropriate il browser si accorge da solo che la finestra è diventata più piccola e quindi si se tu volessi cambiare radicalmente quindi non solo far scomparire qualcosa quando si restringe o cambiare la dimensione ma proprio cambiare radicalmente il comportamento si potrebbe per esempio usare un qualcosa tipo mode che in aggiunta a quello che fa il CSS vada a dire ok questo componente è diventato rosso o è cambiato completamente o si è aggiunto tre cose che prima non c'erano quindi sono in caso dei comportamenti di cambiamento sì se no ci pensa il CSS a farlo quasi gratis quindi non serve aggiungere uno stato che poi bisogna gestirlo eccetera hai visto no gestirlo vuol dire portare le props in giro e quindi se ci pensa il CSS con una classe applicata è ovviamente molto più più semplice è anche più manutenibile ok 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 dato che sono le 10 facciamo 20 minuti di pausa e poi continuiamo con l'esercizio partendo dall'edit visto che siamo qua nel mode quindi riprendiamo alle 10.20 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti